Eccoci qua ragazzi, ciao da Andrea Unger, abbiamo avuto alcune richieste ed eccoci quindi a vedere la regola per il trade nei giorni di vacanza, giorni di vacanza comandata diciamo. Questo è il nostro setup, è un setup generico ovviamente, quindi prendetelo per quello che è. Perché io praticamente dico il numero di giorni prima, quando sono rimasti i top giorni prima della holiday, della vacanza, tu entri il mattino dopo a mercato e poi dopo vedremo quando mettiamo l'input. Qui ci sono delle condizioni aggiuntive soltanto per alcuni test che vedremo poi eventualmente per il mese, se io voglio testare solo uno specifico mese, quando metto 0 li prendo tutti, altrimenti io indico da 1 a 12 quale mese voglio andare a investigare nello specifico e poi un altro sulla media per dire io se metto 0 prendo tutti i trade, altrimenti soltanto quando la chiusura è superiore alla media mobile appunto mio input di giorni. Anche questa è una condizione giusto per verificare eventualmente alcune cose in più nel setup. Questa è la regola in pratica e cosa faccio? In my days due giorni prima, quindi il penultimo giorno prima della vacanza io dico domattina, che l'ultimo giorno entra a mercato, long e quello è il mio setup, tutto qui. Quindi l'ingresso appunto, un long prima della vacanza, vacanza ovviamente di calendario, non vacanza mia che prendo le ferie, abbiamo nel peggiore, non peggiore dei casi, un'uscita dopo N barre di mercato aperto ovviamente, che mettiamo uguale a 5, una settimana borsistica, e ovviamente abbiamo, per essere parametrici, degli stop parametrici ATR, prendo l'Average True Range a 10 bar in due settimane, insomma un valore come un altro, è indicativo e lo moltiplico per un multiplo che nel mio caso poi vediamo essere uguale a 1, lo stesso discorso per il Take Profit dove io prendo lo stesso discorso e lo moltiplico per un suo multiplo che di default metto pari a 1,3 come dicevo, è una scelta di default, è perché stiamo testando l'idea a grandi linee, poi dopo uno può giocare quanto vuole e modificarli magari per trovare soluzioni migliori, però è soltanto un'idea. Quindi questo è diciamo l'impostazione generale del trade. Prendiamo il Mini S&P 500 dove un po' tutto è nato, questa non è un'idea mia ovviamente della letteratura e vediamo che nel tempo fa approfitto. L'equity line non è proprio il massimo, devo essere sincero, perché si vedono anche dei momenti di drawdown un po' spinti e vedendo proprio che ci sono alcuni mesi migliori di altri, la prima cosa che mi viene da investigare è dire va bene andiamo a vedere proprio i singoli mesi allora e vediamo cosa succede, facciamo un'ottimizzazione quindi da 0 a 12 con step 1 e vediamo i risultati mese per mese e qui meglio far guardare questo, ecco qui vediamo che praticamente il dicembre, Natale sarebbe e Aprile, Pasqua direi, sono i mesi che funzionano meglio per questo setup, tutti gli altri sono un po' delle schifezzuone, diciamolo pure, diciamo che le vacanze veramente importanti sono quelle che producono un certo effetto, gli altri non mi pare che lasciano granché e quindi sarebbe il caso eventualmente di concentrarsi, vediamo un po' qui a Pasqua per dire addirittura, io ho il 90% di percentuale di successo, insomma Pasqua è una roba grossa insomma per l'indice americano e gli altri vabbè questo 100% di successo non so cosa ci sia sinceramente adesso però ha fatto il 100% di successo ma ha fatto poca roba, sono pochi trade quindi è perché ha fatto pochi soldi quindi non è che lo considererei più di tanto. Il prossimo passo, visto che avevamo un, vedere se quegli altri giorni, esco prima, cioè invece di stare lì 5 giorni, io esco prima, subito, il primo giorno utile la sera esco. Ecco qui vediamo che si è un po' livellata la situazione, certo ci sono ancora delle schifezze in giro però in generale notiamo che in tanti casi si portano a casa dei profitti migliori, cioè sembra quasi che come setup di base ci sia però meglio portare a casa subito ecco diciamo. Quello che qui ancora non mi piace però sono, preodaccio qui e poi anche alla fine sono andato proprio a scatafascio quindi visto anche il numero di trade non eccessivo non è che mi gasi tantissimo la cosa. Quello che mi viene in mente a sto punto è dire va bene ma vediamo se io filtro con la media mobile e vediamo se io mettendo la media mobile ottengo dei risultati migliori. Di fatto il risultato migliore lo tengo sempre con tutti i trade però già con un filtro di media vedete qui, oppure con quelle lunghe 180, 190, questa è poi quella da 200 diciamo, no classica e facciamo meno soldi però il drawdown sparisce quasi, dicevo 10.000 drawdown qui invece mi va, andiamo a vederlo magari col grafico, mi va molto più giù. Questi sono vabbè i net profit vediamo appunto qua, ci hanno detto che non è che ci interessava tanto anche perché sono pochi soldi alla fine, eccoci qua. Ecco il drawdown vedete che se io prendo tutti i trade mi picchia da morire invece filtrando ottengo un taglio netto del drawdown perché sto fuori nei momenti che evidentemente la cosa proprio non funzionava. Questa è un'indicazione che potrebbe essere utile per chi fosse interessato ad approfondire poi per conto suo il setup e quindi sull'indice americano tenete conto che utilizzando un filtro di media mobile si possono ottenere dei risultati migliori in termini di drawdown. Riportiamo tutto come era prima e andiamo a esplorare altri mercati a questo punto. Prendiamo per esempio andiamo in in Europa il DAX future. DAX future, il più importante future europeo, vedete che la cosa funziona e anche l'equity line è molto bella sicuramente, questa è un equity line sicuramente interessante, il DAX è sicuramente un candidato ideale per questo tipo di setup. E vediamo anche proprio per, sempre sul DAX visto che è bello, mese per mese se le cose rispecchiano l'andamento americano diciamo. Sì, direi di sì perché vedete Pasqua e Natale sono ancora i momenti più importanti per questo tipo di operatività. Il resto di nuovo non porta da nessuna parte perché vedete che a parte Pasqua e Natale tutti gli altri sono anonimi come risultati, anche per il numero di 3 sicuramente inferiori. Per curiosità andiamo a vedere l'unificazione della Germania che è una delle feste importanti in Italia che è in ottobre, vediamo che fa schifo, ne ha fatti pochi di 3 però perde. Però il dubbio era sì ma se io in questo caso faccio più muro dei fuggi quindi invece di star dentro, fatto salvo, take profit, stop loss o quello che è, esco subito e che succede? Sì, succede che pur non essendo rappresentativa questa equity line però i 10 mila di perdita si trasformano in 6 mila di guadagno. Quindi è sicuramente qualcosa che torna a essere interessante anche se è veramente poco stabile in questo caso. Quindi io dico entro il giorno prima dell'unificazione e poi il primo giorno di apertura borsistica successiva all'evento, la sera chiudo il trade. A questo punto andiamo a vedere altri mercati, in particolare andiamo da noi, io lo chiamo FIB, abbiate pazienza, il FIB. FIB è il setup standard e vedete che anche da noi funziona, è meno rampante del DAX ma funziona e siccome mi è stato chiesto vediamo prima di tutto i mesi e anche qui ritroviamo ancora una volta Pasqua e Natale come mesi forti. Ma del resto c'è la correlazione a livello mondiale quindi è anche normale. Agosto, mi è stato chiesto agosto, ferragosto perché non me ne voglia il lettore che ha chiesto, ma ferragosto pare che sia la festa più importante del mondo per alcuni e mettiamo agosto comunque, andiamo a vedere cosa succede ad agosto e come avete già visto dall'istogramma ad agosto è meglio andare al mare. Ma è meglio, ma facciamo lo stesso discorso, non è detto perché se faccio il mordi e fuggi ed esco subito, anziché tenere il trade aperto per cinque giorni, eccolo qui che magicamente diventa addirittura bello. Quindi è ferragosto, se volete farlo per l'identità di ferragosto fatela, però poi il primo giorno utile dopo chiudete la sera il trade perché porta guadagno. Tenete sempre stop loss e take profit attivi, ma qui c'è un 29 agosto che non so bene cosa sia, abbiate pazienza, un anno strano questo. Comunque gli altri per male sono i trade di ferragosto. Quindi diventa interessante, dovete fare ferragosto, fatelo, ma tenete a trade aperto per poco tempo. Rimettiamo a posto i nostri input e andiamo a vedere altri altri mercati. Qui abbiamo Hong Kong, Hong Kong, qui c'è l'indice, ho preso l'indice, non il future che è un storico più lungo, ecco che Hong Kong mostra una debolezza, se che non vado neanche a investigare oltre. Quando vedo una roba così non è che vado a cercare dove funziona e dove no, ma lo fa schifo proprio. Non fate questa cosa sull'Hong Kong index, qui abbiamo anche il future, se si volesse vedere cosa succede sul future, ovviamente è più corta la storia ma sembra che alla fine perde. Quindi Hong Kong non è interessante per questo setup. Andando invece sul Nikkei, quindi in Giappone, ecco qui vediamo che bene o male la cosa ha una sua equity line promettente, diciamo così. Andando a vedere anche qui, ecco in Australia, che è un altro paese di trader, vediamo che anche l'Australia mostra comunque un equity line crescente. Quindi è un setup che funziona, funziona, fa il suo in certi mercati. Qui questi li abbiamo visti tutti praticamente, il più interessante rimane il DAX secondo me, questo è un esempio proprio di chart. Vale la pena fare questo sì o no? Io direi di no, nel senso che si guadagna, fa i suoi soldi, va tutto bene, però secondo me per il tipo di trading che è, ci espone un rischio eccessivo. Noi siamo in balia dei mercati durante le vacanze, la borsa chiusa, noi siamo nel trade, se facessimo solo questo sinceramente saremmo un po' allo sbaraglio, perché qualsiasi cosa dovesse succedere non abbiamo tanti modi per metterci al riparo dai danni che subiremmo poi alla riapertura delle borse, il primo giorno utile. Per cui secondo me è vero che metto lo stop loss, però se il mercato è chiuso e lui aspetta la riapertura per uscire, quindi se apre in gap down nel 10% il mio lo becco sui denti. Per cui secondo me è un rischio eccessivo, poi dopo è chiaro, uno gli piace questo, lo vuole fare, lo faccia, io gli ho fatto vedere, il setup ha un suo bias ragionevole e funziona, sta a voi. Io con questo vi saluto ragazzi, vedete voi, il setup funziona, io però lo vedo un po' troppo rischioso. Ti è piaciuto quello che hai visto? Se vuoi rimanere aggiornato iscriviti qui sotto e verrai avvisato prontamente quando c'è del nuovo materiale. Grazie Grazie a tutti.